E allora amici di Youtube, amici pisani, frequentatori assidui del canale di Burkiano, amici toscani, amici che ci guardano ragazzi da tutta l'Italia, da tutta l'Italia, benvenuti e bentornati qua sul canale di Burki Allora, ci sono delle notizie che riguardano il Pisa veramente interessanti, interessanti, mi ci levo anche gli occhiali ragazzi, si va al lavoro, in mattina sono arrivato quasi al lavoro, ma prima però devo, eh cavolo, io vo sempre prima perché comunque bisogna prepararsi, poi con calma bisogna fare le cose per bene Dico, c'ho tempo di fare un video sul Pisa perché mi gasa, sto Pisa mi comincia a gasare, nonostante comunque le scopole che si sono chiappate col Brescia, però ancora in cantiere aperto, bisogna completare la squadra, bisogna dare anche un po' di tempo a Maran Se ripetere, ripetisco, per me non era il profilo ideale per questo Pisa, però come se la società l'ha scelto, insomma sicuramente ci avranno le sue motivazioni Prima di partire, se fa piacere, un bel like, almeno 50-60 like da Pisa, fatemelo avere, condividetelo in tutta la città pisana perché è fondamentale la vostra condivisione a Pisa, raga, e condividetelo in tutta la Toscana, ma poi in tutta l'Italia, la nostra bellissima Italia Allora, allora, Calabresi, Ionita, Tramoni, allora, andiamo un po' a fare questo ragionamento dopo che comunque so, raga, perché poi il Pisa non è che ha investito solo su questi tre giocatori Sono arrivati anche altri profili interessanti che sicuramente andranno a rinforzare, bisogna dargli tempo perché comunque, allora, Torregrossa, vabbè Torregrossa già conosce l'ambiente e tutto, è stato anche un colpo intelligente da quel punto di vista lì Morutan è un giovane che se ne parla benissimo, stesso discorso per Cissé, dietro arriva Estevez e Rus, Ross, mi intrigo sempre con sta U e sta O che sono comunque due giocatori anche lì che se ne parla veramente, veramente bene, quindi, raga, Knaster sta continuando ad investire e sta cercando di alzare l'asticella Ora, ti arrivano giocatori come Calabresi, Ionita e Tramoni, andiamo un attimino a parlare di questi tre giocatori Io innanzitutto mi sono confrontato anche con la pagina Instagram sul Pisa perché ogni tanto ci si sente, si parla, si va a ragionare, si fanno delle analisi insieme, ci si scambia delle idee perché ci piace non parla poi di tutte le squadre, io da Toscano mi garbo a approfondire il discorso delle squadre toscane, quindi andate a seguire la pagina Instagram se vi capita, Pisa Cuore Nerazzurro perché veramente, veramente vale, vale molto quella pagina Instagram lì, ve la lascio anche in descrizione Insomma, si parlava sempre con questo ragazzo e si diceva appunto che, allora, Ionita e Calabresi dal punto di vista mio secondo me sono dei colpi completativi che ti vanno a completare la rosa, non è che sono quei colpi di roboanza, però ti danno esperienza, ti danno comunque qualcosa nell'immediato possono aiutarti sicuramente nella cadetteria, nel campionato cadetto, a livello di spogliatoio ti portano qualcosa di importante una mentalità pronta nell'immediato e vanno ecco a completare questo discorso qui e sono già giocatori che conoscono il campionato, diversamente da Morutan, da Esteves, da Rus e Ross giocatori del genere che avranno magari bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quindi da questo punto di vista va bene Ah, poi c'è stato anche un altro acquisto che riguarda il Pisa, che ora non mi ricordo bene il nome ma a parte Beruato che è rimasto, che gioca sulla sinistra e anche quello mi sembra un giocatore abbastanza interessante sicuramente ci sarà da scoprirlo raga, ora mi apro un attimo il telefono e vi dico come si chiama perché mi sfuggono tutti i nomi, non posso ricordare sempre tutto per quanto riguarda il discorso di Tramoni, eh Tramoni è un grande colpo io avrei preso a Pisa, avrei voluto, mi sarebbe carbato ecco di vedere anche un playmaker un playmaker perché comunque lì c'è, ci gioca Nagy però un altro play io onestamente a Pisa l'avrei preso magari poi c'è qualche giocatore del settore giovanile interessante io questo ragazzi non lo so però ecco un altro playmaker l'avrei preso va detto e va ribadito che insomma raga Tramoni è un giocatore che a Brescia ha fatto vedere delle cose eccelse delle cose veramente importanti è quel giocatore che ti dà veramente qualità ha una capacità di dripling importante un inserimento veramente anche nel senso che si butta negli spazi che mi garba è quel giocatore che io l'ho definito la cericina sulla torta di questo calciomercato perché è veramente un giocatore che secondo me ti può giocare sia dietro le punte sia con un trequartista o anche con due trequartisti insomma ti può sicuramente andare a alzare l'asticella ecco da quel punto di vista lì sì 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 a me mi garba tanto ecco Tramoni come giocatore detto questo ora vediamo come si completerà il mercato o la società però insomma ragazzi cioè a me mi sembra una squadra ecco che il Pisa sta prendendo forma mi sembra una squadra sicuramente importante no? e quindi da questo punto di vista cioè io insomma so contento da Toscano ah Jureskin si chiama quel giocatore ecco l'ho trovato ecco da quel punto di vista so contento perché comunque il Pisa sta investendo sta completando ha aggiunto giocatori importanti ora servirà un po' di tempo magari perdi qualcosina nell'immediato speriamo di no c'è da confrontarsi comunque con delle realtà in questo momento che sono le tre principali concorrenti ovvero Genova Parma e Cagliari poi il Genova io lo vedo soprattutto e soprattutto e quante Parma e Cagliari per me sono lì ma il Pisa comunque per me quest'anno c'è e parti con qualcosa in più rispetto all'anno scorso secondo me secondo me ecco questo è un po' quello che penso sul Pisa fatemi sapere la vostra se fa piacere un bel like iscrivetevi al canale come dico sempre ciao a tutti ciao regà